Saranno 12 Pullman, 3 dal VCO, 9 da Novara, per oltre 600 partecipanti, contando anche qualche macchina e qualcuno in treno, che dalle due province, venerdì 29 novembre, prenderanno parte a Torino alla manifestazione regionale per lo sciopero generale indetto da CGL e UIL. I dati forniti dal sindacato sembrano preannunciare una buona adesione, anche se sarà solo la piazza a poterla confermare. I dati forniti dal sindacato sembrano preannunciare una buona adesione, anche se sarà solo la piazza a poterla confermare.